Non c'è futuro senza uno sviluppo economico orientato da una visione ecologica e sociale. Non può esserci progresso senza le figure di esperti con competenze manageriali che sappiano guidare processi di trasformazione e ammodernamento. La pandemia e i cambiamenti climatici stanno accelerando la transizione verso modelli produttivi che guardino non solo all'efficienza e alla redditività, ma anche alla riduzione degli impatti generati sull'ambiente. E' su queste premesse che l'Università di Bari Aldomoro ha deciso di puntare sulla formazione mirata di professionalità in grado di inserirsi in un mercato del lavoro sempre più complesso ed esigente. Il nuovo corso di laurea magistrale in innovazione, governance e sostenibilità, promosso dal Dipartimento di Economia, Management e diritto dell'impresa in sinergia con Confindustria Bari e BAT, muove esattamente in questa direzione. La formazione, la figura professionale che noi andiamo a realizzare è quella del manager, del responsabile di strutture pubbliche o di istituti bancari o del mondo della finanza che devono riorientare le proprie attività cercando appunto di implementare gli obiettivi di tutela dell'ambiente, di gestione degli aspetti sociali e quindi di quelle ricadute che da sempre le attività economiche hanno avuto e che nel recente passino e nel recente passato sono state un po' trascurate. E dal dialogo con il territorio pugliese e dallo studio dei settori nevralgici della sua economia che invece nascono tre nuovi ambiziosi master universitari. Il processo è stato accelerato da quanto abbiamo vissuto nell'ambito della pandemia e quindi abbiamo arricchito la nostra offerta con un master di secondo livello in economia e management delle aziende sanitarie che è evidente, vuole cercare di dare un contributo di miglioramento delle gestioni di queste importanti strutture per tutta la popolazione e per il territorio. Il modo particolare è evidente in questo periodo e quindi un altro aspetto che ci ha sollecitati soprattutto considerando che noi svolgiamo la nostra attività didattica nelle città di Bari e Brindisi, due città porto, un master appunto nella gestione delle città portuali e in questo caso la sede delle attività sarà Brindisi. Oppure, cosa che già facciamo considerata la laurea magistrale sui temi dei servizi turistici che eroghiamo, un master di formazione più leggera, definito short master, sui temi della ospitalità e del revenue management, appunto per intercettare le esigenze di professionalità in questo importante settore economico che caratterizza il nostro territorio pugliese.